In un progetto di strategia di sviluppo locale diventa importante fare rete e cooperare? Beh certo, oramai gli enti locali, i comuni non possono più vivere come realtà se seste, ma bisogna iniziare a ragionare con una logica di territorio, quindi la rete tra i comuni è fondamentale, ma non soltanto tra i comuni, tra i comuni e gli stakeholder che circondano i territori, quindi cercare di crescere insieme e preparare il territorio a delle prospettive diverse che sicuramente con l'impegno di tutti si possano ottenere e raggiungere. Presidente, l'incontro di questa sera è incentrato sul ruolo dei comuni. Al percorso già avviato di cooperazione si aggiunge, credo sia necessario, quello del confronto. Certo, il confronto è importantissimo, ma soprattutto in questa fase di programmazione occorre una condivisione della strategia, ma soprattutto serve la programmazione. La programmazione è fondamentale in un momento come questo, dove ci sono tante difficoltà, quando il nostro territorio vive anche problemi di tipo sociale, economico, politico, quindi il ruolo del GAL, che è un ruolo di facilitatore nel matching tra territorio, enti locali, imprenditori e il mondo associativo. Quindi questa è l'occasione per lavorare insieme, è un'ottima opportunità che ci concede la Regione Puglia, proprio nella stesura di una strategia condivisa, e siamo qui oggi con i sette sindaci e i loro delegati, proprio per facilitatore nel matching tra territorio, enti locali, imprenditori e il mondo associativo. Quindi questa è l'occasione per lavorare insieme, è un'ottima opportunità che ci concede la Regione Puglia, proprio nella stesura di una strategia condivisa, e siamo qui oggi con i sette sindaci e i loro delegati, proprio per vivere insieme questo momento di condivisione, facilitato dall'Università. Ci sono Stefano Iorio e Cristina Di Letizia, per accompagnarci in questo momento di condivisione e di programmazione.